Musica Tanta buona per tutti ragazzi, sono Mischio e benvenuti in un nuovo video Torniamo stranamente a fare gameplay perché grazie a Sony ho ricevuto in anticipo un gioco che penso sia spettacolare per Playstation VR Si chiama Robinson Journey, si tratta di un'avventura nella quale noi siamo nello spazio e la nostra base nello spazio precipita su un pianeta E quindi andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta Allora, io già come vedete ho giocato un pochettino, andiamo comunque a riniziare e a scoprire insieme questo gioco Così vedete anche voi di cosa si tratta e com'è I caricamenti sono un pochettino lenti Come vedete la navicella esplode e noi riusciamo a raggiungere questo pianeta Ma non è solo Come vedete la grafica come tutti i giochi è Probabilmente perché si tratta del nido Non il top del full HD Però la sensazione che abbiamo ragazzi è veramente veramente bella Qua cosa abbiamo? Un dinosauro Un cinturro intanto Indietro, Robin Guardate che carino che è Andiamogli da mangiare Questa assomiglia molto A quello di Destiny O di Portal Forse più quello di Portal Guarda che carino Sembra quasi proprio di averlo vicino a noi E questa è la prima parte introduttiva Ok Buongiorno Robin Ti sei svegliato finalmente Mi annoiavo senza di te Sono fatto così Quando non ho qualcuno di cui occuparmi Entro in crisi esistenziale Prenditi tutto il tempo che ti serve Ti aspetto una lunga giornata La prima cosa che notiamo ragazzi è che per spostarci Vedete Se io premo la levetta Non è un movimento fluido Va scatti Questo non è All'inizio ho detto Vabbè ma cos'è sta cagata Che dobbiamo spostarci Invece è di grandissimo aiuto Perché se Si può mettere anche come vedete La modalità fluida Basta andare in gameplay E fare Dov'è? Fluido Se venite qua vedete È fluido Però Non riuscirete a giocare per più di due minuti così Perché vi verrà un mal di test incredibile Quindi Lasciate pure rotazione angolare E Sarà molto meglio Allora Qua siamo dentro della nostra navicella No? Perché non chiamiamo in sopravviso? Il nostro omino ci guiderà durante la missione E Io direi di andare subito A vedere cosa c'è fuori Perché Ecco al vero spettacolo ragazzi In questo gioco Siamo tornati praticamente Su un pianeta che assomiglia molto alla terra E dove è pieno di dinosauri Finché Era una navicella bellissima Vero? Devono essere scese altre persone Quanto ci vorrà per trovarle? Questa è la nostra navicella Altri potrebbero non essere stati altrettanto abili Ok In questo gioco Per quello che sono riuscito a giocare Dov'è Laika? Laika è via per là ovviamente È tornata nella sua tana Si nasconde per la vergogna Suppongo Abbiamo del lavoro da fare Ovviamente fa un mucchio di malanni Allora come vedete Noi abbiamo questo joystick in mano E grazie a questo Possiamo praticamente Prendere gli oggetti E lanciarli Ci muoviamo ovviamente con lo sguardo Per prenderli E poi Li prendiamo con R2 Diamo il lancio E via Ora arriva la nostra turbina Bellissimo L'energia è ritornata Ed ora Che bisogna riparare i circuiti Ok Questo posso aiutarti io Guarda Passiamo alla modalità Di uso del drone E come vedete Questo è il nostro Accampamento Visto dall'alto No? Qua abbiamo la nostra grafica E noi Abbiamo appena liberato Qua l'energia E dobbiamo Fare questo Semplice giochino Nel Dividere L'energia Che va a finire All'accampamento Ok Molto semplice Adesso l'energia elettrica È completamente Adesso come vedete Abbiamo quell'aurea Blu lì Che ci protegge Abbiamo di nuovo L'elettricità Nel nostro campo E siamo a posto Andiamo a salutare Il nostro Piccolissimo Dinosauro Purtroppo Ho notato Che non si può correre Almeno fino a dove Sono arrivato io Col gioco E qua dietro Vi c'è Eccola qua Dile di lasciare la palla Prima che la distrugga Non è che possiamo Andarne a comprare un'altra Coraggio Laika Non preoccuparti di Higgs Devo solo lavorare Sul tuo addestramento Così che non gli salti Infusibile Molla Adesso La prova è difficile Si ricorderà Come si gioca A nascondino Vai verso quell'albero E inizia il gioco Ok Ovviamente questo gioco Ragazzi È la prima parte Iniziale Ci stanno facendo Un po' capire Come sono le meccaniche Di gioco E quindi Magari è un po' più Noiosa Andando più avanti Ci sono sempre Queste mini missioni Da completare Che comunque E rendono il gioco Molto piacevoli Andia Laika vuoi giocare A nascondino È troppo lontana Richiamala Più veloce Dove è andata a finire Bene Laika Dai muoviti Qui piccola Adesso puoi iniziare A giocare A nascondino Richiamala A nascondino Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Vengo a cercarti L'ho vista L'ho vista Ok Eccoti qua Cos'è? Che cosa è? Quella è un'unità X Allontana subito Il tuo cucciolo Prima che cause Ieri danni Contiene Dati preziosi Scansione immediata Robin Ok Questa è la seconda Modalità che abbiamo La scansione Con la quale Prendiamo appunto Informazioni Dobbiamo colpire Tutti i puntini blu È perfetto Questa è un'unità Della colonia Inviate in avanti E qua ci darà Dei messaggi Dove Un pezzo Della nostra storia Come avete sentito Robottino Un pezzo Della nostra storia E vi darà Dei messaggi audio Nella quale Ascolteremo bene Se ci fosse L'equipaggio Inizierebbe la colonia Da qui Queste unità Higgs Ci diranno dove sono Devono essercene Altre Troviamoli Capisco Secondo i dati Ce ne sono Altre tre Nei paraggi Per di qua Ok Ok Allora come avete capito Ci sono questi oggetti Della base spaziale Che è quella che è Distrutta via per là E speriamo Che ci sia Ancora qualcuno E sopravvissuto In modo tale Da Non solo noi Da fare una nuova base Adesso Dille di ruggire Laika Ruggisci Andiamo via I dinosauri Mi dispiace Di averli spaventati Ma probabilmente La tua amica Li avrebbe divorati Eh direi Grazie per l'aiuto Robin Capisco che occuparsi Dei lavori di casa Non sia divertente Ma è fondamentale Per la tua sopravvivenza E sai Che è la cosa A cui tengo di più Comunque Il nostro personaggio Il nostro robottino qua È fenomenale Veramente Fa 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 di quelle battutine Particolari Che sono speciali Allora Andiamo Direi A A fare L'ultima missione Che è Sempre comunque Di quelle iniziali Tanto per Mostrarvi Un'idea Generale Se dopo Magari Ragazzi Volete Che continui Questa serie O solamente Vi porti La recensione O i miei pareri Finali Me lo lasciate Scritto qua sotto Nei commenti Così So anch'io Come gestire Al meglio Questo gioco A me piace Veramente tanto Per quel po' Che ho giocato Qua dobbiamo Ricostruire Abbiamo passato Tanto tempo A cercare Di tenere Dinosauri Alla larga Dall'accampamento E adesso Ne abbiamo fatto Entrare uno Ripariamo Lo spaventapasseri Per funzionare Gli servono Due braccia Una testa E un cappello Il multi utensile Lo riparerà In un baleno Ecco Questa è la cosa Più difficili Girati Bene Tutti i sopravvissuti Che passeranno Da qui Riusciranno A vederlo A posto ragazzi Allora Per questo Primo gameplay E impressione Di questo gioco È tutto Tanto Tanto vi lascio Lo sguardo Su La nostra Base Spaziale A terra Praticamente Qua Abbiamo I guanti E questa È la visione Di questo Mondo Veramente Fatto molto Bene Qua abbiamo Le nostre mani Penso Si possa giocare Anche col Move Magari Prossima volta Se vedete Un altro Gameplay Lo porterò Con il Move Quindi Da questo Magnifico Panorama Dalla nostra Base Da Vieni qua Laica E così Saluti anche te Saluta un attimo Non è in grado Eccolo Ragazzi Per questo video È tutto Ci vediamo Nel prossimo Video Mi raccomando Lasciate Un bel po' Di like Sotto questo Video Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo gioco Ci vediamo Nel prossimo Video Tanta guaglia Per tutti E ciao